Oggi leziona maestra Miyaga, prende equilibrio con braccia, mani, piedi e gambe Aspetta, fermete, ci sa chi fa riservi C'è? Ci sa chi fa riservi C'è il cioccolatino? No E' un altro Vabbè mio amico Vabbè ho capito Vabbè metti pausa, mori via con Non si può fare Come si può fare? Venga a soffare Oggi maestro Miyaga insegna come prende equilibrio con braccia, mani e piedi e gambe Con braccia, mani, piedi e dita Noi per fare questa insegniamo Ci mettiamo circa 94 giorni Con il mio insegnamento Con 5 minuti riusciremo a prendere equilibrio su questa pezza di ferro Allora In questo attimo Prende questo Tirare su gamba Tirare su gamba Tirare e spinge così Sì? Olè! Equilibrio dell'aquila Equilibrio dell'aquila che vola Mettete braccia, mani così come volete Equilibrio aquila che vola Aquila che vola Maestro Miyagi Che si mira Che si mira Tanto giù